Il Wim presso il castello comunale Falletti di Barola è un viaggio, un percorso nel mondo del vino, emozionante ed emozionale. Un percorso alla scoperta del rapporto lungo, attraverso tutte le civiltà praticamente della storia umana, il rapporto che l'uomo appunto ha avuto con un vino. Il vino ha permeato la vita dell'uomo in ogni angolo del mondo sostanzialmente. Questo è il racconto che si trova al Wim. Il Wim nella storia, il Wim nelle arti, nella cucina, nel cinema, nella letteratura, nella musica, il rapporto della natura per creare un grande vino in collaborazione con l'uomo, la storia dei Falletti di Barolo, degli ultimi barchesi, in particolare Carlo Tancredi e Giulia, che hanno contribuito alla nascita del Barolo moderno, un omaggio al vino Barolo, al paese di Barolo, ma soprattutto un racconto appunto del rapporto fondamentale che ha sempre legato il vino e l'uomo. Un racconto poetico ed emozionante.